Musica Benvenuti al consueto appuntamento con le opportunità formative e le offerte di lavoro della provincia di Savona Il CETO per l'impiego d'Albenga ricerca un impiegato per ufficio commerciale acquisti nel settore floricolo Requisiti richiesti, conoscenze informatiche buone, diploma di scuola media superiore, esperienza nel settore tra i 2 e i 5 anni Contratto proposto, tempo determinato, full time Il CETO per l'impiego di Savona ricerca un addetto alla reception per albergo Requisiti richiesti, turni diurni, notturni e festivi Buona conoscenza informatica, indispensabile conoscenza del russo e del tedesco Contratto proposto, tempo determinato, full time Il CETO per l'impiego di Carcara ricerca un saldatore specializzato per dita di Cairo Montenotte Requisiti richiesti, preferibilmente scritto nelle liste di mobilità della regione Possibilità di trasferte, assolvimento, obbligo scolastico Contratto proposto, tempo determinato, full time È possibile consultare sul sito Forma Lavoro della provincia di Savona nell'area dedicata alle scuole l'elenco di tutti gli istituti della provincia savonese e gli indirizzi di studio a disposizione Sul sito della provincia di Savona alla voce dell'osservatorio del mercato del lavoro nel campo statistica si trova il barometro lo strumento per far conoscere quali sono le professioni richieste nell'arco delle due ultime settimane lavorative rilevate dall'andamento del mercato del lavoro locale Naturalmente queste sono solo alcune delle offerte che troverete visitando il nostro sito www.provincia.savona.it